Il nostro sguardo giovane è uno sguardo che va oltre l'imperfezione ed è capace di scoprire la bellezza nelle crepe. Noi vogliamo essere la generazione della rigenerazione affinché lo scarto diventi bellezza. La discarica non è la soluzione ai rifiuti, ciò che buttiamo oggi lo ritroveremo nel nostro futuro. Attuando buoni comportamenti possiamo scegliere un futuro più leggero senza il peso dei rifiuti.